Io leggo. Io leggo perché leggendo si impara. Io leggo. Io leggo perché leggendo passo il mio tempo. Io leggo. Io leggo perché leggendo mi sento giovane. Io leggo. Perché leggendo posso fare molte e moltissime cose. Io leggo. Leggo perché leggendo, come ho detto nelle scorse parti, imparo. Passo il mio tempo. E faccio molte altre cose. Questo piccolo spot è per invogliare la gente a leggere. Perché a volte leggere può diventare molto più bello che giocare ai videogame. Leggere è una parte importante della vita. Perché c'è gente che senza lettura non vive. La lettura è importante perché la lettura è il passatempo migliore del mondo. Mi raccomando. Leggete. 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 Leggete.